Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Mazzi e questo è un glitch per duplicare la vostra BMX dentro la base della zona Allora in primis dobbiamo avere un garage vicino a noi per risparmiare il tempo insomma di viaggio Oppure se non lo abbiamo usiamo il teletrasporto quindi dovremmo stare in mira manuale e usare il teletrasporto Per portare la LG per esempio vicino a noi però io sono partito dal garage potreste anche chiamarla con il meccanico Insomma ci sono una cifra di varianti ragazzi Quindi io c'avevo il garage qui vicino sono partito da quel garage solo per farvi vedere che in quel garage avevo una Sultan e una LGRH8 Quindi prendo la LGRH8 poi in un altro caso chiamatela col meccanico e la mettete fuori dalla base operativa E deve rimanere lì ragazzi deve rimanere in mappa fuori dalla base operativa In questo glitch andremo a duplicare la BMX A che scopo ragazzi? Perché molti me l'hanno chiesto e voglio rispondere Allo scopo di avere più BMX possibile nella base operativa per poter fare il solo money glitch ragazzi Questo è l'unico scopo anche questo video ve l'ho lasciato integrale In maniera tale che vediate tutto come funziona e come non funziona Perché qualcuno mi ha commentato non mi entra in garage Ragazzi se impiate una BMX la portate fuori dalla base operativa e tentate di metterla dentro E' normale che non entra non entrerà mai Che cazzo che siete tecocio? Comunque sia ragazzi mettete la BMX qui in questo punto La dovete incastrare a mestiere in maniera tale che vi faccia il teletrasporto Come sto facendo io guardate ragazzi mettete la BMX Se vi fa questo gioco siete pronti per poter fare il glitch Quindi fate attivare il menu nel senso fate comparire la scritta esci dalla base E contemporaneamente dovete premere X per uscire e triangolo per salire sulla bicicletta Quando avremo fatto questo usciremo dalla base operativa con la nostra BMX Io a questo punto ragazzi siccome ho il garage qui vicino Prendo la BMX e la vado a mettere in garage Per passare la BMX nella base operativa ragazzi deve prima passare da un garage Ed è il passaggio che sto facendo Quindi andremo in un garage Molleremo la BMX nel garage E poi torneremo alla base operativa O prenderemo il veicolo Io in questo caso mi sono dimenticato Quindi sono tornato dentro alla base operativa e ho preso il veicolo Però comunque poco male Ve lo lascio comunque integrale Così capite bene Una volta per tutte come se duplica sta BMX Quindi entrate nel garage Come vedete io sono entrato senza problemi A questo punto io qui potevo uscire fuori E chiamare il meccanico E chiamare una macchina dalla base operativa Per poter mettere la BMX direttamente nella base operativa Però me ne sono dimenticato Perché in quel momento stavo girando il video E mi è passato sinceramente in mente Non ci stavo a pensare Anche perché tante volte a me Quando faccio i glitch li faccio in automatismo ragazzi Ma non è perché mi voglio atteggiare Che sono uno corte e me escono da soli No però oramai C'ho talmente l'abitudine Che me escono veramente uno dietro l'altro E sinceramente tante volte non ci faccio neanche più caso A quello che faccio o a quello che non faccio Quindi tante volte le cose le faccio per automatismo Comunque come dicevo Io adesso ho preso sta macchina Per entrare in base operativa Cioè per andare in base operativa Che non fa male a piedi Perché mi pareva un po' eccessivo Quindi vado nella base operativa E prendo il veicolo Con cui scambierò la BMX Quindi andrò a prendere il veicolo Che metterò a posto della BMX E la BMX passerà all'interno della base operativa Ragazzi Non è che dovete fare tutto sto passaggio O ripeto Io mi sono scordato Devi chiamare meccanico Voi volete Se volete insomma chiamate il meccanico E vi fate portare la BMX Cioè non la BMX Scusate Però rincoglionimento ogni tanto arriva Vi fate portare una macchina qualunque Che ci avete dentro la base operativa Una LG retrocast Ma è duplicata come in questo caso E la mettete dentro al garage Io vi sto facendo come ho già detto Vedere tutti quanti i passaggi Quindi vedete tutto il video E vi rendete conto di quello che sto parlando Quindi arrivati nel garage Ci dirà garage pieno Andremo a sostituirla con la BMX Niente di più semplice L'auto rimarrà qui E la BMX passerà in base operativa Io adesso torno in base operativa Giusto per farvi vedere Che la BMX è passata in base operativa Se volete rimanete Fino alla fine del video Per vedere la BMX Se no chiudetelo Se me credete sulla parola E via Detto questo ragazzi Un saluto a tutti Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti